La regione toscana è tra le prime in Italia a dare il via ad una campagna universale gratuita rivolta a tutti i bambini nati dal 1 aprile 2024 per proteggerli dal virus respiratorio sinciziale, l'agente patogeno responsabile della maggior parte delle infezioni acute delle basse vie respiratorie nei piccolissimi, in particolare le bronchioliti. L'investimento della regione per questa campagna di immunizzazione si stima che supererà i 3 milioni di euro. La diffusione di questo virus nella stagione invernale comporta ogni anno un pesante impatto sui reparti di pediatria, circa un bambino su 50 deve essere ospedalizzato e circa il 20% dei piccoli ricoverati ha la necessità di essere curato in terapia intensiva. Non mancano inoltre le possibili complicanze a lungo termine come il broncospasmo e l'asma. Nello scorso inverno i ricoveri per virus sinciziali in Toscana sono stati circa 800, tra questi bambini 160 hanno avuto la necessità della terapia intensiva. Finora l'unica profilassi disponibile era un anticorpo monoclonale che richiedeva una somministrazione mensile rivolto a categorie di bambini ad estremo rischio di complicanze. Recentemente invece è stato sviluppato e messo in commercio un nuovo anticorpo monoclonale che ha mostrato un'ottima efficacia nella prevenzione delle infezioni pediatriche. Dunque i bambini nati tra il 1 aprile e il 30 settembre 2024 saranno immunizzati a seguito di chiamata attiva presso l'ambulatorio di pediatria di famiglia nel mese di ottobre. I bambini nati invece dal 1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025 saranno immunizzati presso i punti nascita prima della dimissione ospedaliera.